Nuovo sottopasso Cairoli, finalmente ci siamo. Presentati questa mattina alla presenza di RFI e amministrazione comunale i lavori di riqualificazione del collegamento città-mare che sarà più accessibile e funzionale per tutti. Con questo intervento il tratto sarà sia pedonale che ciclabile. È un intervento che ci ha interessato in questo momento nella fase progettuale, prevederemo adesso l'inizio dei lavori a giugno di quest'anno, partiremo lato monte per spostarci poi lato mare alla fine della stagione estiva, proprio per garantire tutto il flusso stradale, quindi tutte le attività estive, lato mare rimarranno del tutto invariate, quindi cercheremo di dare meno soggezioni possibili. Si tratta di un intervento, diciamo, di un sottopasso che sarà largo 4 metri e 10, alto 2 metri e mezzo e profondo, diciamo così, quindi lungo per circa 130 metri. Nasce con l'obiettivo molto importante di mettere il cittadino al centro del progetto, si abbatteranno tutte le barriere architettoniche, ci saranno i percorsi tattili, quindi effettivamente molto illuminato, quindi sarà effettivamente un intervento di riqualificazione davvero importante. Anche noi come rete ferroviaria italiana la sostenibilità è diventata uno degli elementi fondamentali, di consentire con la mobilità sui treni, di consentire alle persone di viaggiare in maniera sicura e cercando di rispettare gli standard di puntualità, anche in questo caso mettere al centro degli obiettivi, come in questo caso il cittadino o insomma la persona, secondo noi è un aspetto fondamentale. Il costo dell'opera è di 2 milioni di euro erogati da ferrovie e 500 mila dal comune. I lavori che inizieranno nei primi di giugno prevedono l'abbattimento di 18 alberature, infatti sarà ampio l'intero percorso che inizierà dalla zona delle poste per arrivare fino al bar. Da sottolineare che questi interventi non intaccheranno la circolazione ferroviaria. Durante le opere non ci saranno assolutamente soggezioni alla circolazione ferroviaria, quindi si utilizzeranno delle metodologie già ovviamente sperimentate, utilizzate in tutta la rete ferroviaria italiana, per garantire la massima sicurezza e il passaggio dei treni in continuità con le opere che sono in fase realizzativa per il sottopasso. I disagi passano ma le opere restano. Ha esordito il sindaco Seri in vista dei possibili problemi durante la stagione estiva. Chiediamo un po' di pazienza ma il risultato sarà d'impatto. Era un sottopasso ormai vetusto con delle barriere. Oggi andiamo a fare una grande realizzazione grazie a RFI con questa grande collaborazione. Un'opera straordinaria che sarà in parte in trincea, in parte in galleria, un'opera ciclopedonale che va a battere tutte le barriere, ma soprattutto è un'opera di decoro, di comodità e un'infrastruttura che andrà a cambiare in meglio il volto di questa zona. Quindi non possiamo nascondere la grande soddisfazione per questa grande opera importante che solo qualche anno fa magari nessuno si aspettava, ma oggi è diventata concretezza. Un altro rendering che si realizza. Il prossimo step poi sarà la riqualificazione completa del sottopasso di via Nazario Sauro con l'abbattimento dell'ex casello ferroviario che metterà così in collegamento in un'unica passeggiata la darsena borghese fino al faro del porto.